Per acquistare crediti visitate FIFA Coin Stank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi la prima recensione che faccio di un giocatore su FIFA 15. Questo perché l'anno scorso in realtà ne ho portate tante di recensioni in FIFA 14, ma sono abbastanza impegnative da fare. E quindi avevo deciso di portarvi recensioni solamente di giocatori che proprio interessavano in particolare a me. Cosa che infatti succederà ed è successa in questo video. Recensione di Rakitic Second Inform, un giocatore che mi ispirava davvero tanto per le statistiche che aveva. E quindi ho deciso di portarvelo. Vi parlo di un giocatore che ho pagato circa 300.000 crediti. E secondo me diciamo che il prezzo è un po' troppo alto. Anche se comunque è un ottimo giocatore. Troviamo un 71 di velocità, 85 di tiro, 92 di passaggio, 84 di dribbling, 61 di difesa, 72 di fisico. Ma avete anche voi gli occhi, quindi potete vederle tranquillamente voi. Ha un 85 di overhaul e come ruolo originario è CC. Io l'ho utilizzato da AT, dopo spieghiamo bene. E in 7 partite mi ha fatto 8 gol e 4 assist. Decisamente una media molto molto buona. Andiamo però a vedere nello specifico questo giocatore parlando un po' dei suoi pro e dei suoi contro. Troviamo sicuramente intanto una nuova veste grafica rispetto all'anno scorso che mi piace di più. Quindi partiamo subito dai pro che il tempo è poco. Quindi concentriamoci sul tiro che è la cosa che più mi è piaciuta di questo giocatore. Non tanto dall'area, dentro l'area, ma i tiri dalla distanza. Comunque sulla tre quarti, così fa dei tiri che sono veramente sbalorditivi. Ha un long shot di 87 che è molto alto. E soprattutto un 88 di potenza tiro che permettono a questo giocatore di tirare dei veri e propri razzi. Infatti ha fatto qualche gol in long shot, davvero molto bello. Poi, soffermiamoci sul passaggio. Altra cosa importantissima. 92 di passaggio sulla carta è veramente pauroso. Passaggi corti, passaggi lunghi non fa differenza. Lui è un gran assist man. Infatti questo spiega gli assist che mi ha fatto nelle 7 partite. Perciò mi è piaciuto. Ha anche un 92 di visione che è particolarmente alta come statistica. Quindi ben venga. Poi abbiamo il controllo palla che è un altro pro, secondo me. Perché ha 89 di controllo palla. Statistica di per sé molto molto alta. Quando provate a rubargli palla, in pratica non la perde. Perché è un controllo palla esagerato. Ha anche un buon dribbling, tra l'altro. Anche se non lo considero un vero e proprio pro. Ma unito al suo appunto controllo palla, rendono questo giocatore davvero difficile da rubargli il pallone. Ultimo pro, secondo me, è il posizionamento. 82 di posizionamento per un giocatore che comunque gioca come CC. Secondo me è buono. Io l'ho utilizzato da AT perché, per sfruttarlo al meglio, ovviamente, per fare la recensione. E comunque mi sono trovato bene. Sia come falso 9, sia nel 4-4-1-1. L'avete vista la squadra comunque che ho utilizzato. Mentre i contro sono sostanzialmente 4. La velocità, perché ovviamente in un gioco dove si sfrutta tantissimo la velocità, quel 71 è un po' pochino. La finalizzazione, perché ho riscontrato che dalla versione NIF ha solamente un più 2 di finalizzazione. E a me sembra abbastanza poco in una versione SIF con solo più 2 di finalizzazione. Le tre stelle abilità e le tre stelle più debole, perché quando provate a usare il sinistro incappate in danni, in pratica, perché non è fortissimo il suo sinistro. Stelle abilità purtroppo ne ha solo 3. E infine il work rate medio-medio. Comunque, ricapitolando ragazzi, questi sono i pro e i contro. Ho parlato poco dei contro perché non avevo tantissimo tempo, visto che le clip erano un po' pochine e non avevo troppo tempo per registrare. Comunque, se dovessi dargli un voto da 1 a 10 a questo giocatore lì, darei un 7 e mezzo. Per il semplice motivo che è divertente da utilizzare. E basta, è divertente da utilizzare sostanzialmente. Potete farci anche delle ibride attorno. Io sicuramente ho utilizzato la BBVA, perché i giocatori che ho utilizzato erano quelli che avevo nel club, quindi non dovevo stare neanche a comprarli. Comunque, vi potete fare delle ibride tipo con Kovacic, e con Perisic, potete linkarli come volete, perché legano molto bene. Comunque, raga, questo giocatore mi è piaciuto. Vi consiglio di provarlo se avete i crediti. Come sempre, io vi invito a lasciare un bel mi piace. Tra i cento mi piace uscirà un nuovo video. Fatemi sapere se queste nuove recensioni vi piacciono e se volete che in futuro ve ne porti altri, di giocatori che magari interessano anche a voi. Basta che me lo fate sapere. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link in descrizione. Noi ci troviamo al prossimo video. Bella raga!